comunque devo sistemare tutto assolutamente assolutamente tutto mi tocco Alexa 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 Sarebbe molto bello se rispondesse Alexa Alexa la prossima live perché è tutta la prossima Alexa metti vecchio stampo ma chi è Alexa metti vecchio stampo ecco che è luminante così questa palette della MAC è più buona assolutamente come le sinta d'albolo non mandatemi le dirette per favore che entro l'accetto e mi si bloccano le dirette perché mi hanno tutte scatti ecco ma lo devo dire altre cento volte giustamente perché una persona non capisce vedete che devo a posta viviamo e quando viviamo è caduto tutto o amore era leggendo Bamba c'è solo damma Se no non sanno capare la Se vuototamma Se vuototamma Dai un nuovo prodotto Rugo Filolando Gian Gian Dicomaccia Non faccio mai saltare Ok Deve falli tutto bene Ok No Potete non mandarmi le richieste Comunque amici vado ad asciugarmi I capelli perché sono Bagnati E non posso fare i capelli con la testa Cioè non posso fare La testa con i capelli bagnati Perciò l'altra domanda E tutto ciò E detto questo amici Vi ringrazio di avermi tenuto compagnia Mi ringrazio di essere attivi Perché tra poco E tra l'altro detox E poi domani No Non c'ho un gattredis Come lo ha stati chiedendo tantissime Tutto questo Grazie mille di avermi tenuto compagnia Ciao ciao